Momenti di paura sabato notte scorso per una rissa in via Nolfi nel pieno centro storico di Fano davanti a un noto bar frequentato della zona. Erano circa le 22.15 quando dei giovani egiziani e albanesi si sono scontrati con violenza usando manganelli e addirittura una spada. Nel video girato da un ragazzo con il proprio cellulare si vedono all'esterno di via dei Borgogelli un gruppo di ragazzi rincorrersi e sfidarsi a colpe di manganellate, c'è chi lancia vasi, mentre uno a terra gli vengono scaraventati violenti pugni a raffica rinchiusi e inermi all'interno del bar dei ragazzini che assistono a delle scene di vera e propria guerriglia urbana. Nel giro di poco tempo sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia di Fano insieme ad un'ambulanza del 118 che ha portato uno dei giovani al pronto soccorso per delle ferite riportate. Esasperati invece i residenti che protestano per i rumori e gli schiamazzi notturni quasi ogni fine settimana oltre ai comportamenti fuori luogo e maleducati. Oggi a dire la sua su questo brutto episodio è il sindaco di Fano Massimo Seri che definisce questo ennesimo atto di violenza gravissimo a tal punto da convocare un tavolo tecnico con il sequestore di Pesaro e Orbino. Beh intanto diciamo che c'è un limite a tutto, la movida, i giovani devono divertirsi e siamo d'accordo però va trovato un equilibrio, c'è un rispetto anche delle comunità in cui si vive. Lì si sono create delle situazioni dove si verificano con troppa frequenza determinati episodi, anche l'episodio di sabato scorso ha superato ogni limite. Fano una città dove si vive bene perché adesso poi dobbiamo tenere sempre i punti fermi, abbiamo alcune situazioni sulle quali bisogna intervenire. Proprio per questo ho chiesto un tavolo tecnico con il questore, oggi stesso ci incontreremo per ragionare sugli interventi da adottare. Poi ci sono ovviamente dei limiti di competenze, alcuni spettano ad altre istituzioni, altri a noi per cui ci sarà un concerto e un ragionamento per interverire perché non possiamo più tollerare situazioni di questo tipo. Come non possiamo tollerare anche gli imbecilli che vanno anche a imbrattare e dove noi andiamo a investire risorse importanti e puntualmente troviamo il solito idiota che va a fare cose di questo tipo. Quindi sono due cose diverse ma su entrambe prenderemo dei provvedimenti e poi sulle quali ci aggiorneremo.